I amici del Lozzecchino d'Oro, io sono Alessandro Wiesentainer, in arte Alex Wiesi, sono l'autore della canzone Il domani in gara, il 57esimo Lozzecchino d'Oro, una canzone ricca di significati per il mondo dell'infanzia, una poesia, una favola per un domani che speriamo tutti sia migliore, perché i bambini sono quelli che cambieranno il mondo, è una canzone a cui sono molto particolarmente legato, speriamo che piaccia alla gente. Ho anche scritto un'altra canzone per Lozzecchino d'Oro nel 2008, il Tortellino, vi seguirò un frame, un piccolo ritornello, ce ne la ricordo. Asciutto e morta dalla boda, e la sfoglia è tutta da costare, è il Tortellino di Bologna, un'odice, infartano, una specie di cuccagna, come andare in città. È una grande festa, ti rispeglie dalla siesta da mangiare, niente di più buono, c'è più finale. È il segreto delle mamme, sto sfintando, è un concetto e premio il pato che di meglio non ce n'è. È il baccalà, ma va là, e poi va avanti. Grazie a tutti e buon frichino d'oro, speriamo di divertirci tutti insieme ai nostri bambini. Ciao!